Benetazzo, tornando all'economia, in particolare Salvini rimprovera all'Europa di esercitare troppe pressioni, di dare troppe bacchettate, di condizionare questo paese per fare un po' gli interessi della Germania, facendo saltare, schizzare lo spread quando serve, crollare le borse, c'è questo, c'è un'Europa che a tavolino studia queste tecniche per indebolire il paese, a prescindere da chi lo governa? Certo, ritorniamo su quelle che erano le tematiche che abbiamo affrontato prima, per rispondere al Senato Ferrazzi, il mood che ha trasmesso il candidato come Ministro dell'Economia Savona si è modificato recentemente, soprattutto negli ultimi due anni, riprendendo anche la stampa finanziaria di questi ultimi giorni, sono state riportate sue recenti affermazioni in cui si invitava a valutare per il nostro paese l'uscita dall'Euro, capite benissimo che chi sta a Bruxelles e sente che il candidato al Ministro dell'Economia Italiano ha questo tipo di impostazione e per definizione lo ha etichettato come esponente anti-establishment. Io voglio fare una, ritornare per chi è a casa perché così si rende conto della delicatezza che ha questo momento storico per la politica italiana, prima sono stati citati tre governi, Letta, Renzi, Monti e Monti, i governi che si sono succeduti nel tempo hanno potuto avere il cosiddetto prestatore di ultima istanza, che cos'è il prestatore di ultima istanza? È il soggetto garante che è intervenuto e ha garantito i conti pubblici italiani ed è quello che è accaduto non solo per noi italiani ma anche per altre economie molto deboli della periferia europea. Ora, questa garanzia, questa protezione finanziaria scade fra sei mesi, tecnicamente è stata conosciuta in Italia all'interno dei talk show come il famoso quantitative easing, ovvero sia l'impegno istituzionale da parte della Banca Centrale Europea di supportare le quotazioni dei titoli di Stato ed anche le obbligazioni bancarie. Oltre a finire l'impegno istituzionale irrevocabile per voce di Draghi alla fine dell'anno da parte, quindi sostanzialmente era il famoso bazooka di Draghi, ce lo ricordiamo? Il bazooka di Draghi inizierà lentamente il progressivo aumento dei tassi di interesse, quindi per spiegarlo con parole semplici immaginate che voi che siete a casa vostro figlio, un ragazzo giovane che inizia a fare impresa e si butta letteralmente nel mercato del lavoro, dell'attività imprenditoriale artigianale, ma se qualcosa va male c'è il papà alle spalle che copre con un assegno eventuali buchi o defaianze che si dovessero verificare. Ecco noi tra sei mesi questo tipo di copertura, non solo noi italiani, anche altri paesi molto deboli economicamente e sono fortemente preoccupati da questo punto di vista, uno dei primi che sta avanzando timori nella capacità di essere economicamente ancora in propulsione è proprio la Spagna che sa benissimo che non avrà più questo tipo di supporto, questo aiuto, quindi noi adesso ci troviamo a sperimentare questo ibrido di genetica politica, ci auguriamo tutti che vada a buon fine, ci auguriamo tutti che riescano ad ottenere anche oltre il 50% dei punti programmatici della lettera di intenti che hanno siglato, però ricordiamoci che se qualcosa dovesse andare male, questa volta non ci sarà nessuno che interviene da fuori e quindi le risorse per il risanamento dovranno essere recepite internamente, vale a dire che i rischi che abbiamo avuto nell'estate del 2011, quando lo spread è schizzato a oltre 700, sono significativamente elevati per la prossima estate proprio, perché ci sarà una lenta ripresa della politica monetaria che diventerà da espansiva a restrittiva, secondo rischi di inflazione legati a questa espansione monetaria che si è perpetrata, innescata negli anni precedenti e terzo, e questo io continuo a ripetere anche nei miei recenti libri pubblicati, non avremo più il salvadore della patria, Mario Draghi termina il suo mandato entro 9 mesi, sapete chi sarà il suo futuro successore? Già si vocifera di Jans Weidman che sostanzialmente è il governatore della banca centrale tedesca, quindi dopo una persona, un banchiere che già adesso non ha più tutto quell'appoggio all'interno del consiglio direttivo dell'istituzione finanziaria europea, sappiamo che arriverà il cosiddetto falco tedesco che implementerà una politica monetaria di rigore, se noi ci troviamo con un esecutivo che non sarà in grado di rendersi credibile o ancora peggio, si troverà con dei conti pubblici che sono frutto di una contabilità esageratamente ottimistica, l'assegno lo dovranno staccare in Italia i risparmiatori, perché lì grazie a Dio ci sono oltre 4 trilioni di Euro e poi i pensionati, vale a dire le famose, non è che sono grandi invenzioni da parte mia, sono parte di quei famosi punti di 39 punti che ricevette l'ultimo governo Berlusconi quando il ministro dell'economia era Tremonti, il quale poi innescò la crisi di governo che noi sappiamo, quindi questo tipo di medicina già ci è stata richiesta 7 anni fa, poi ci hanno dato 4 anni al pari di altre nazioni europee per dire guardate adesso ci sarà un limbo finanziario, in aggiunta abbiamo avuto l'Euro particolarmente forte contro il dollaro, guardate come si è svalutato recentemente e secondo il prezzo del greggio straordinariamente basso, nell'ultimo anno è raddoppiato, quindi condizioni macroeconomiche che non rivedremo mai più, quindi da Renzi, Monti, Letta hanno vissuto una straordinaria fase politica in cui hanno potuto contare che se sbagliavano qualcun altro al di fuori della nostra popolazione avrebbe pagato. Padre, questa condizione non ha portato bene a Renzi, a Monti, il dividendo che si è stato creato attraverso la convergenza di queste tre variabili macroeconomiche che sono appunto il cambio euro-dollaro, il prezzo delle materie prime soprattutto al greggio e terzo il livello dei tassi di interesse, ricordiamoci che nel 2008 i tassi erano oltre il 4,5%, oggi sono negativi forse per ancora altri tre mesi, quindi con un paese che economicamente è oberato da oneri finanziari, ma non solo l'apparato statale, tantissime altre grandi attività e industriali hanno potuto beneficiare di questo scenario particolarmente favorevole, quindi ci auguriamo tutti quanti ed è uno dei modi che sta lanciando la stampa anglosassone e sapete per quale motivo la stampa anglosassone non è casuale, perché oggi si parla ancora tanto delle banche italiane, o meglio delle grandi banche major italiane, ma di italiano queste banche non hanno più niente, perché oggi i principali azionisti di maggioranza relativa di questa realtà sono tutti fondi di investimento che sono o statunitensi o inglesi, quindi da unicredito arrivando a Intesa, passando per UbiBank, Banco Popolare e così via discorrendo, tutti quanti hanno come principale azionista di riferimento investitori istituzionali o americani o di inglesi, capite per quale motivo… E di chi è la colpa? Cosa vuol dire di chi è la colpa? Perché hanno perso tutte le banche, perché? Beh, dobbiamo tornare indietro a più di dieci anni fa e capire quali sono stati… Comunque il dato essenziale è che se aumentano i tassi non ci sarà più nessuno che in Italia investe un euro. Esatto. Una visione pessimistica. Se aumentano i tassi… No, questa non è una visione pessimistica, ma perché continuate a dire che è pessimismo? Cioè è come uno che va a 100 all'ora e più avanti ti dicono guarda che forse c'è un muro in cemento armato, oh ma tu sei sempre pessimista, no ma guarda che c'è il muro di 100 armato, forse è il caso che rallenti, deceleri, troviamo magari una scorciatoia per evitarlo, no no ma io vado ancora a 120 a tavoletta perché tanto sono ottimista e poi vado a finire che mi schianto, è così che si sono schiantate le istituzioni finanziarie di cui parlavamo prima, proprio perché il management è stato così, cieco, ma no, ma non è il caso di essere così allarmisti, creiamo paura nei risparmiatori, negli azionisti, nei correntisti e poi come sono andati a finire queste persone? Se il nostro amico economista… Se il nostro amico economista…